buongiorno bella gente e benvenuti nel mio canale oggi mercoledì e di solito metto video delle varie uscite posti interessanti da visitare qua a valencia ma sapendo che ha fatto due giorni di pioggia quindi non ho potuto andare da nessuna parte ho approfittato di sistemare l'armadio che da quando mi sono trasferita in questa casa che l'ho sistemato due tre volte però non sono così soddisfatta e tra l'altro c'è un disastro allucinante tra la roba lavata e poi volevo cambiare un po' nei cassetti ho approfittato ho detto ma sì dai facciamo questo video di come ordino come ordino l'armadio e quindi niente ho deciso di condividere con voi questo video un po' particolare che non fa parte ovviamente delle cose che faccio di solito nel mio canale ma questa cosa fa parte anche della mia vita io in questa casa mi sono trasferita ad ottobre ho fatto tantissimi cambiamenti ma proprio tanti tanti perché io ci tengo tantissimo alla casa che sia piena di la mia energia e quindi niente allora io ho diviso l'armadio sapendo che abbastanza grande tra l'altro la proprietaria mi ha detto ah ma se voi io te lo posso togliere via l'armadio ma per carità di dio è bruttino però veramente molto utile pieno di cassetti e soprattutto questo c'è il riparto per le scarpe che è veramente molto utile allora ho separato le magliette ho fatto un cassetto delle magliette un cassetto delle gonne un cassetto per i pantaloni e leggi per uscire e poi nell'altra parte c'è la parte sopra che non si vede dove ci sono le borse ho messo le borse la parte centrale e dove ci sono i vestiti dall'altra parte invece ci sono altre cassetti ho messo le camicie in maglioni mario maglioni fine e maglioni pesanti maglioni leggeri e poi ho trasferito dove avevo la parte in intimo e mutande reggisene queste cose qua costumi da bagno gli ho cambiato il posto l'ho messo nell'altro cassetto io mi trovo bene in questo ordine nel senso se voglio prendere le gonne li prendo infatti questa volta invece ho messo le gonne e pantaloncini che non so quando li metterò che continua con questo brutto tempo qua valenza che è molto strano qua in teoria dovremmo essere già a 45 gradi invece il tempo veramente brutto fa più caldo in italia che qua valenza come vedete ho cominciato a mettere dei jeans nel cassetto c'è la mia bimba cali che mi sta facendo compagnia che tra l'altro tra lei i gatti sono carini quando mi vedono che faccio dei lavori a casa non disturbano mai fanno le loro cose sono tenerissimi vi racconto un po di fatti curiosi ma più che altro vi lo leggo i vichinghi non hanno mai indossato elmi con le corna nel casino non si mettono né orologi né finestre con i vetri trasparenti oltre alla luna altre cinque asteroidi orbitano intorno alla terra quindi si potrebbe dire che la terra a sei lune lo sapevi noi lo sapevo più di 35 mila americani all'anno sostengono di essere stati rapiti dagli alieni wow in francia è vietato chiamare i maiali napoleone per gli altri animali il divieto non vale pensa sapevate che nel 1997 è stato vietato a brad p l'ingresso in cina per aver fatto il film sette anime in tibet tra l'altro un bellissimo film sapevate che le pupille delle capre e dei polipi sono rettangolari questo è molto curioso il nome completo di picasso e pablo diego jose francesco di paola juan neposumeno maria de los remedios cipriano della santissima trinidad martir patricio rius e picasso capite quando dite che avete il nome lungo 15 questo fu un po ridere bon marley è stato seppellito con la sua chitarra pallone di calcio una bibbia un anello e una scorta di marijuana per non si sa mai e invece durante il suo quarto durante il suo quarto film di rambo avrebbe ucciso 370 persone ovviamente viene ricanate invece questo è molto curioso l'impronte digitale di un koala non sono distinguibili da quelli di una persona nemmeno sotto il microscopio wow invece il vestito bianco lungo fatto con il filo dorato l'aveva fatto mia nonna e me l'ha regalato tantissimi anni fa bellissimo lo adoro bel ricordo ho tantissimi vestiti con i fiori fantasie così perché adoro la roba colorata ho tolto la parte dove pulisco la parte sopra dove ci sono le borse perché e purtroppo non ho alzato la tericamera quindi si vedeva solo il mio culo direi proprio non è al massimo la parte che mi dava più soddisfazione la parte dei maglioni che un giorno l'avevo sistemato infatti sono dorati ai lottatori di sumo è vietato guidare un'auto ci credo non ci entrerebbero e adesso che sto preparando anzi sto sistemando il cassetto delle dell'intimo mi sono resa conto che ho più mutande per il ciclo che per quelle normale tra l'altro buttato via un sacco perché tra quelli che sono rotti quelli che dici dai si risistemo ma no ma dai ma sono comodi e ho fatto una strage oggi voi sapete il finale di Doraemon invece qua ve lo dico io il finale del manga giapponese Doraemon prevede che il robot si scarichi e che Nobita sposi l'amica Shisuka nooo si scarica non potevano caricarlo per la cacchata allora gli elefanti sono gli unici animali che non sanno saltare ma direi ma meno male avrebbero fatto già distruggere l'Africa se no troppo questa casa dove vivo è piena stra piena di muffa e quindi ho la parete piena di muffa allora vado approfitto e la pulisco la pulita ho messo dell'acqua con la candeggina semplicemente è abbastanza efficace toglie via proprio la macchia toglie via proprio i batteri questa cosa della muffa e li passo con una spazzola dopo di che lo asciugo e già la parete come nuova l'altezza del piramide picchiope spero che ho pronunciata bene e pare esattamente un miliardesimo della distanza che separa la terra dal sole sono troppo avanti loro sono sempre state troppo avanti gente se vi è piaciuto questo video se vi è piaciuto il risultato mi raccomando lasciatemi un like iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e ci vediamo domenica alle 12 per nuovo video ciao bella gente alla prossima ciao